Partiranno la settimana prossima i lavori per la ricostruzione del ponte Allaro lungo la statale 106 a Caolonia Marina. Questa è la dichiarazione a margine di un vertice in prefettura Reggio Calabria, che ha visto riunirsi i sindaci per fare il punto della situazione prima dell'avvio delle operazioni di messa in sicurezza dell'infrastruttura che collega la provincia di Catanzaro con la regina. Ad annunciarlo il presidente dell'Associazione dei Comuni della Locri de Franco Candia. L'ANAS ha evidenziato che grazie al decreto di finanziamento degli interventi per l'importo complessivo di 6 milioni e 300 mila euro, saranno avviati i lavori di realizzazione del nuovo ponte e l'adeguamento e messa in sicurezza del percorso alternativo, le strade provinciali 88-89. È prevista inoltre la realizzazione di un guado sul fiume Allaro che consentirà il doppio senso di circolazione anche ai mezzi pesanti per ovviare alle attuali limitazioni di traffico sul ponte. Il completamento dei lavori è previsto per gennaio 2019, una comunicazione che dà speranza a un luogo che vede rimandare da tre anni il programma di ricostruzione della sovrastruttura statale.